Oggi vedremo un semplice progetto per far lampeggiare dei led con due transistor è uno schema, un progetto classico, quasi dell'elettronica vedremo come funziona il tutto, lo realizzeremo su breadboard senza neppure entrare troppo nel dettaglio, iniziamo subito Un circuito interessante che possiamo costruire con i transistor bipolari è un semplice oscillatore, ci serve un due transistor NPN possiamo usare i soliti 2N2222 o eventualmente 2N3904 se non sbaglio che è simile, ci servono due resistenze da 390 R1, R2 da 390 Ohm una resistenza da 10K, un trimmer, chiamo P1, da 10K anche lui due condensatori C1, C2 del valore di qualche microfarad io li ho usati uno da 22 e l'altro da 47, erano quelli che avevo nel cassetto quindi 47 microfarad, il voltaggio maggiore di 5V quindi quello che avete voi e poi due led possiamo realizzare il tutto su una breadboard con molta semplicità partiamo con disegnare il circuito, abbiamo resistenza da 390 il primo dei due led, quello che volete quindi questa qui sarà la R1 e qua sotto abbiamo il transistor messo nella solita configurazione l'emmettitore lo mettiamo a ground e abbiamo la base realizziamo poi l'altro ramo con l'altro transistor quindi questo circuito farà lampeggiare i due led in modo alternato generando quindi una specie di onda quadra seconda resistenza da 390, quindi la nostra R2 il secondo led e poi l'altro transistor abbiamo le basi, ora dobbiamo fare in modo di attivare uno e l'altro in modo alternativo per farlo dovremo andare a modificare la tensione, la VBE quindi facendo salire o scendere la VBE andremo a accenderlo e portarlo da interdizione a saturazione i led lampeggiano perché in modo alternativo uno dei due transistor sarà in saturazione e quindi la VCE sarà pari a 0 mentre l'altro sarà in interdizione, quindi sarà spento e la sua VCE sarà pari circa alla tensione di alimentazione che qua abbiamo messo pari a 5 volte come facciamo a far cambiare la tensione di alimentazione? usando la resistenza R3 con un condensatore dall'altra parte P1 con un condensatore ho messo P1 in modo che possiate modificare la frequenza del blink andiamo a realizzare il primo di questi due rami con resistenza da 10k e questa resistenza la colleghiamo con il primo dei due condensatori in questo modo quindi a seconda del comportamento del transistor il nostro C1 si caricherà o scaricherà ipotizziamo che Q1 sia in saturazione inizialmente quindi avremo la VCE quasi a 0 il condensatore C1 si caricherà tramite la resistenza R3 questa tensione nel punto A salirà visto che questa è collegata alla base di Q2 e Q2 lo ipotizziamo inizialmente in interdizione appunto perché all'inizio il punto A è praticamente a 0 man mano che questa sale la tensione sulla VBE di Q2 salirà a un certo punto scatterà Q2 dall'altra parte qui su Q2 abbiamo il nostro potenziometro da 10k 22k quello che avete voi collegato nello stesso modo con un altro condensatore che è il nostro C2 e C2 sarà collegato a sua volta alla base del transistor 1 il circuito è simmetrico quindi mentre da una parte abbiamo visto cosa succede quindi si carica il condensatore dall'altra parte avremo la scarica perché se questo è un'interdizione ho che il collettore del transistor Q2 è quasi a 5V quindi questo fa sì che C2 possa scaricarsi tramite questa linea come abbiamo visto la tensione sulla base a un certo punto aumenta quindi scatta porta Q2 in saturazione e si inverte la condizione se provate a farlo su Tinkercad vedete che non funziona perché gioca sul fatto che i due transistor sono leggermente diversi voi sapete che nessun transistor è perfettamente identico anche se ha la stessa sigla quindi quando voi ne pescate due hanno dei beta leggermente differenti costruendo questo circuito che praticamente è simmetrico tranne il nostro caso in cui abbiamo messo componenti diversi accade che uno dei due prima dell'altro si metterà in saturazione e quindi andrà a determinare la situazione di partenza su Tinkercad dove è tutto preciso questo non funzionerà perché è tutto identico realizzatelo su una breadboard invece come ho fatto io e li vedrete che effettivamente funziona modificando con un cacciavite il valore del potenziometro potete modificare la frequenza del blinker qui trovate una possibile soluzione per andare a realizzare il circuito su una breadboard conviene tenere i fili corti per avere tutto in ordine e come vi ho detto prima alimentando vedete che resta tutto acceso è possibile conoscere in anticipo la frequenza in cui i led lampeggiano i calcoli sono abbastanza complessi prendendo un cosessi libro di elettronica potete ricavare una formula molto semplice che potete appuntarvi che dice che la frequenza del blink è pari a 1,4 per R per C cosa sono R e C? R e C sono i valori di questa resistenza di questo condensatore nell'ipotesi che lo costruiate simmetrico cioè questa vale R, questa vale R, questo vale C e questo vale C potete usarlo anche per generare degli audio per esempio se C vale 100 nF e R vale 33k ottenete una frequenza di circa 200 Hz che ovviamente non si può vedere con i led ma sarà una specie di ronzio prodotto con un'onda quadra bene per oggi è tutto spero che sia stato un progetto interessante potete eventualmente modificarlo aggiungendo dei trimmer o cambiando i condensatori fate qualche esperimento e provate quindi se non provate poi non sapete quindi sporcatevi le mani bene vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani ciao